Bentornati ad una nuova puntata di Tg7 Basilicata Meteo. Domenica 14 febbraio. Si intensifica ulteriormente l'afflusso di correnti gelide di origine russa. Giornata improntata con nevicate maggiormente nella parte settentrionale della Basilicata. Temperature in ulteriore calo con rischio di diffuse gelate notturne nei settori interni. Lunedì 15 febbraio. La fredda circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli nevicate mattutine, si allontana favorendo schiarite via via sempre più ampie. Tendenza a maggiori schiarite dal pomeriggio sera. Temperature in lievo aumento nei valori massimi. Martedì 16 febbraio. Graduale rinforzo dell'alta pressione. Garanzia di una giornata asciutta con cielo parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento. Mercoledì 17 febbraio. Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sull'intera regione, nubi sparse alternate a schiarite fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Giovedì 18 febbraio. Correnti umide vanno lentamente smorzandosi, favorendo così ampie schiarite nel corso della serata. Dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Sull'Appennino, sul Materano e sul litorale ionico, cieli molto nuvolosi o coperti, con tendenza a schiarite nella serata. Sul litorale tirrenico, nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venerdì 19 febbraio. Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo parzialmente soleggiato. Nubi sparse alternate a timide schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Sabato 20 febbraio. La pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diladamento della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Sull'intera regione, cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Augurando a tutti una buona settimana, ringraziamo i numerosi ascoltatori che ci seguono assiduamente.